A Palazzo d'Orleans il presidente della regione Renato Schifani ha presieduto una riunione cruciale sulla vertenza che coinvolge i lavoratori di Almaviva in Sicilia. L'azienda, uno dei principali call center della regione, ha recentemente avviato la procedura di licenziamento collettivo causando forte preoccupazione tra i numerosi dipendenti attualmente in cassa integrazione a zero ore. Gli ammortizzatori sociali scadranno il 31 dicembre creando un ulteriore scenario di insicurezza. Questa vicenda ci sta molto al cuore, ha affermato il presidente Schifani. Siamo impegnati a trovare una soluzione che tuteli i lavoratori, valorizzando le loro competenze utili alla regione e che sia sostenibile sia economicamente sia amministrativamente. L'obiettivo rimane quello di garantire un futuro lavoro stabile e dignitoso agli operatori di Almaviva e di salvaguardare il tessuto occupazionale in Sicilia. L'assessore regionale alle attività produttive Edita Maio parteciperà il 20 novembre al tavolo di crisi con il governo nazionale per esaminare i percorsi risolutivi dell'avvertenza. Il nostro impegno è totale e dobbiamo dare una risposta ai lavoratori coinvolti, ha aggiunto Schifani confermando la volontà della regione di trovare una soluzione che sia definitiva.